Quanto hai capito che fare l'attore era la strada giusta per te? Ho capito un po' tardino, avevo intorno ai 13 anni, perché all'inizio volevo fare il pallabolista, professionista, non avevo tanto talento però dopo un po' capivo che non saltavo tanto in alto, non ero bravissimo a schiacciare, non ero bravissimo a ricevere, quindi mancando queste cose principali ho detto forse non posso fare il pallabolista, però un pomeriggio andò a vedere uno spettacolo di una mia amica che faceva un saggio e mi invitò, io quel giorno mi ricordo che non avevo i soldi per pagarmi il biglietto dello spettacolo e quindi che feci una cosa, entrai alla fine dello spettacolo, quando tutti stavano per uscire io entrai perché avevo capito che non era ancora finito proprio lo spettacolo però qualcuno stava iniziando ad uscire, io entrai dentro e era proprio il momento dell'inchino e dei saluti, io entrai e ebbi tipo una sensazione stranissima di un'emozione particolare strana che dicevo ma come mai mi sta invadendo questa sensazione di un brivido, una sorta di... non so nemmeno descrivertelo, praticamente mi ero emozionato nel vedere questi attori che ringraziavano il pubblico e il pubblico in piedi che applaudiva questi attori che avevano finito lo spettacolo, indagai insomma su questa emozione qua, iniziai a fare un corso amatoriale nella mia città e piano piano ho detto forse sì, forse è questo proprio quello che mi emoziona veramente, voglio fare questo, mi aveva colpito questo scambio reale. Come è reagito la tua famiglia quando hai detto che volevi fare l'attore? All'inizio papà è carrozziere, mamma casalinga, ho detto ma sei sicuro? Nel senso ti dà una stabilità, pensi che ce la farai, pensi sai, noi non abbiamo conoscenze, non abbiamo un cognome, non abbiamo raccomandazioni, insomma, non sappiamo, ce la farai da solo senza nessun... Proviamoci, ho iniziato a studiare al centro sperimentale e piano piano ho visto che loro erano i miei primi fan, proprio erano i primi loro, nonna, i miei zii, ti favano tutti per me e questa cosa a me poi ogni progetto che arrivava mi dava sempre più carica. E quindi all'inizio l'hanno presa un po' così, ma non perché non volessero, proprio per paura che io non ce la facessi o paura che potessi rimanere male per un sistema che magari non mi dava l'opportunità di farlo, però mi hanno sempre appoggiato. Il tuo personaggio nel Paradiso delle Signore è molto legato al suo nunclo familiare. Sì. E ti riconosci in Salvatore Amato? Tantissimo, tantissimo. Salvatore Amato sembrava un mio alter ego siciliano. Io sono di Roma, lui è siciliano, ma ha un senso di protezione per la sua famiglia, un senso di affetto, di amore incondizionato che mi riguarda tantissimo. Se succede qualcosa ai fratelli, lui è il primo ad aiutarli, a costo di passare lui in secondo piano. Il fratello si mette in qualche guaio, è lui che va a combattere al posto del fratello, pur non avendo magari la fisicità del fratello. Ha una forza di volontà e soprattutto una cosa, la solarità, che è quello che non lo fa perdere mai, non gli fa mai perdere il punto di vista di dove deve andare. Non si perde mai nella malinconia, nella tristezza. Ha sempre una ragione per tutti, un motivo, una parola buona per tutti. È un personaggio estremamente positivo. Poi ha qualche difettuccia, magari è un po' troppo donnaiolo, però non guasta, insomma. Poi è così simpatico, è così carino, insomma, non è invadente, non è arrogante. Fa il tutto in modo molto simpatico e spontaneo, quindi è un ragazzo che si fa voler bene. E questo penso che anche io, insomma. Abbiamo un'indole buona. Però tu vai a finire sempre in luoghi un po' particolari. Già se dove vuoi andare a parare. Tra il playboy e poi c'è il toyboy. Io vorrei per iangolo con Sabrina Ferilli. Ma sei davvero un po' toyboy e un po' playboy? Allora, sono veramente un po' playboy e toyboy. Diciamo, tipo, come si chiamano quelle matriosche? Quelle bamboline stanno una dentro l'altra, è così. Diciamo che il toyboy sta dentro la matrioska del playboy. E si invertono a volte. A chi non piace sedurre? A me piace molto. Lo faccio con molta educazione, con rispetto verso le donne. Quindi mi piace fare complimenti, mi piace l'invito a cena, mi piace essere molto calante con loro. Quindi sì, toyboy magari perché ho un aspetto un po' magari da ragazzetto buono. Quindi sì, mi riguarda anche quello. Ma sì, dai. Un po' tutte e due, va? Va bene. Senti, invece parliamo di un altro personaggio. Questo è un pochino più serio. In arte Nino. Sì. Intervedi Cesare. Sì. Ho detto scommetti. Sì. Quanto è stato importante per te raccontare la storia di Nino Manfredi? Beh, appartiene a tutti noi, insomma, la storia di Nino Manfredi. Io ho avuto l'opportunità appunto di lavorare con il figlio che faceva la regia, Luca Manfredi, e il grandissimo Aglio Germano interpretava proprio Nino. Ecco, l'opportunità che ho avuto lì è stata enorme. Ho capito innanzitutto che per fare l'attore devi essere anche una bella persona, prima di tutto. Elio Germano è stato una bellissima persona, un grandissimo professionista. Mi ricordo a volte stavo a casa e chiamava Elio dicendo Emanuele, senti, stavo pensando al tuo personaggio a Cesare e stavo pensando che lui si muove in questo modo. Ti va di passare a casa mia così ti do un libro di fumetti di un personaggio che secondo me si muove proprio come lui? Ho detto, cavolo, un grande attore come Elio Germano va a chiamare me per darmi dei consigli su come si muove il mio di personaggio. Cosa che invece poteva stare a pensare a come studiare il suo di personaggio. Questo mi ha fatto capire quanto veramente un attore per essere bravo deve essere anche un bravo collega, un bravo ascoltatore. Nel senso lui secondo me è una persona che ascolta molto e Cesare è un personaggio molto divertente. Scommetteva su qualsiasi cosa e prendeva la morte con leggerezza. Per esempio lui sapeva benissimo che stava molto male e però scommetteva sulle sigarette che erano proprio la fonte dei suoi mali. Un ragazzo che non si perdeva mai d'animo, rideva sempre e aveva un bellissimo rapporto con Nino proprio perché entrambi scherzavano sull'ironia. Erano molto dei personaggi molto cinici, molto... bella esperienza quella. Senti, cinema o tv? Allora, ora sto facendo una cosa in tv. Sto facendo il paradiso delle signore e devo dire che è un progetto bellissimo che sono felice di fare con colleghi che stanno diventando pian piano ogni giorno sempre di più una famiglia e il che è molto raro ma veramente ci vogliamo bene tutti. Cinema ho fatto qualcosa e sicuramente ha tempistiche diverse sicuramente una scena non la giri in pochissimo tempo come accade in tv soprattutto per il progetto che stiamo facendo noi che chiudiamo 45 minuti di girato al giorno quasi una puntata al giorno cinema questo non accade quindi ti direi la tv perché è una scuola di formazione quotidiana per me mi sto formando come una seconda scuola dopo il centro sperimentale io dico sempre sto facendo il paradiso delle signore che è una scuola tutti gli effetti e come crescita magari emotiva o qualcosa di più ricercato direi piacerebbe fare anche bei film al cinema con un Virzi con un Daniele Lucchetti con Xavier Dolan andiamo oltre oceano perché no però non mi sento di dirti solamente una entrambe perché entrambe le cose ti danno cose diverse e una è funzionale all'altra un po' ci hai svelato cosa vuoi nel futuro nella tua carriera ma nella vita personale cosa desideri? nella vita personale piacerebbe trovare un bell'amore con cui gioire di tutti i successi che magari spero arriveranno o anche delle fatiche o anche delle delusioni insomma un amore con cui possa io condividere tutto questo una bella bicicletta a Trastevere è un cagnolino dei marmocchi magari che girano là per noi però no una bella bici a Trastevere per andare a spasso e girare anche a piedi così con la mia famiglia quello sarebbe un bel sogno e vedere felici miei questo è forse il sogno no prima questo vedere felici miei perché ultimamente è un periodo un po' particolare quindi vederli felici mi farebbe veramente il sogno più grande per ora